In questo blocco tematico vediamo insieme quali sono i principali metodi di ricerca utilizzati in psicologia. Prima di tutto è importante capire qual è lo scopo di una ricerca in psicologia. Lo scopo principale del metodo sperimentale è la verifica di ipotesi relative all'esistenza di un nesso causale tra certe condizioni e certi effetti. Prendiamo determinate condizioni, le modifichiamo e osserviamo i risultati ottenuti. Quindi è fondamentale la verifica di ipotesi relative all'esistenza di un nesso causale tra certe condizioni e certi effetti. Quindi verifichiamo gli effetti che quelle condizioni hanno sull'evento. Per poter lavorare al meglio è necessario costruire un disegno di ricerca che è l'architettura della ricerca, una vera e propria mappa delle attività del ricercatore che ne orienta le scelte e le decisioni. Nel disegno di ricerca troviamo innanzitutto l'interesse di partenza che porta alla domanda di ricerca. Cosa voglio studiare esattamente? Bisogna fare attenzione che il campo di ricerca non sia troppo esteso, che è il rischio di dispersione, oppure troppo limitato, il rischio di ripetizione, o ancora troppo complesso, il rischio di fallimento. Dopo aver chiarito cosa si vuole studiare si delineano le ipotesi di ricerca che sono degli enunciati provvisori chiari e precisi. Successivamente si sceglie il metodo scientifico che si vuole utilizzare per la raccolta delle informazioni. Poi c'è la raccolta e l'analisi dei protocolli sperimentali con un'elaborazione statistica descrittiva e inferenziale, per fare eventuali induzioni o inferenze dai risultati ottenuti. Ed infine c'è la pubblicazione della ricerca, ossia la diffusione dei risultati. I disegni di ricerca possono essere entro i soggetti, quando lo stesso soggetto è sottoposto a diverse condizioni, tra i soggetti, un soggetto è sottoposto solo ad una condizione, quindi i soggetti non possono essere usati come gruppo di controllo a causa del fattore influenza, e i disegni fattoriali, dove il ricercatore intende valutare nello stesso esperimento l'effetto di due o più variabili indipendenti sulla variabile dipendente.